3 tiri dai, vediamo più bene 3 tiri Pasta e fasule con Tiro da fermo La palla è entrata, è una visione ottica se andate fuori Se mettete gli occhiali in 3D potrete Se mettete gli occhiali in 3D sembrerà che la palla è di là Nooo, sembrerà un altro vicino